Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video da Francio11, oggi siamo tornati qua a parlare di GTA 6, come avete letto dal titolo, torniamo a parlarne dopo un po' di tempo che diciamo ci sono stati quei leak lì, vi ricordate, avevamo fatto un sacco di scalpore, ne avevamo parlato in due video sul canale che fra l'altro sono andati alla grande, vi ringrazio un sacco, ma siamo tornati a parlarne appunto perché sembra che stiamo entrando un po' più nel vivo di quello che potrebbe essere il mese che potrebbe appunto vedere il primo annuncio ufficiale da parte di Rockstar Games di GTA 6, perché? Allora innanzitutto dobbiamo prendere tutto quello che andrò a dirvi con le pinze, però in generale sono cose che hanno abbastanza senso, quindi sono sicuramente cose non confermate in alcun modo da Rockstar Games, ma si tratta di informazioni plausibili comunque, allora la cosa più ovvia, la cosa che diciamo molti potrebbero aver notato anche da soli, è il fatto che Rockstar Games i suoi ultimi tre giochi più importanti, ovvero GTA 5, Red Dead Redemption 2 e poi se vogliamo anche la Trilogy Definitive Edition, sono stati annunciati tutti quanti nel mese di ottobre, in particolare GTA 5 il 25 ottobre, Red Dead Redemption 2 il 18 ottobre e GTA Trilogy il 9 ottobre, quindi diciamo negli ultimi anni ci siamo abituati a vedere Rockstar Games annunciare giochi importanti appunto nel corso del mese di ottobre, non c'è un motivo specifico direi dietro a questa scelta da parte di Rockstar Games, però è un qualcosa a cui ci siamo comunque abituati e che sta facendo ormai da diversi anni a questa parte, perché comunque GTA 5 2011 è stato annunciato, Red Dead Redemption 2 2016 e chiaramente GTA Trilogy 2021, questo quindi potrebbe lasciar pensare a un possibile annuncio di GTA 6, un possibile reveal trailer, magari un teaser, cosa ne sappiamo, di GTA 6 nel corso di questo mese, anche non solo per questo, ma anche per un altro motivo molto molto importante, sapete che la Trilogy è stata annunciata in occasione del ventesimo anniversario di GTA 3, è stata annunciata per commemorare un po' GTA 3 appunto in occasione del ventesimo anniversario di questo gioco, e dal momento che GTA 6 abbiamo visto dai leak che sarà ambientato a Vice City, è tutto confermato, sarà ambientato appunto a Vice City e questo mese, in particolare il 29 di ottobre, sarà l'anniversario, il ventesimo anniversario dell'uscita di GTA Vice City, potrebbe essere effettivamente l'occasione migliore per Rockstar Games in questi ultimi tempi di poter effettivamente annunciare un nuovo gioco ambientato nella stessa città di GTA Vice City, ovviamente non ne siamo sicuri perché Rockstar potrebbe scegliere di adottare un'altra strategia, però è chiaramente molto plausibile, mi sembra abbastanza chiaro che sia chiaramente una cosa non completamente stupida pensare che effettivamente Rockstar possa voler festeggiare, se vogliamo, celebrare il compleanno, il ventesimo anniversario di GTA Vice City, un gioco fra l'altro storico della saga, appunto proprio con l'annuncio di GTA 6, non solo però perché nel mese di ottobre quest'anno ci sarà anche un'altra importantissima ricorrenza, ovvero il 21 di ottobre, quindi giusto qualche giorno prima rispetto al 29, ci sarà il venticinquesimo anniversario della saga di GTA, quindi diciamo il venticinquesimo anniversario dell'uscita del primissimo Grand Theft Auto, e questo chiaramente potrebbe essere un altro pretesto interessante per Rockstar Games per appunto annunciare un qualcosa di nuovo per quanto riguarda la saga, quello che forse è il gioco più atteso di sempre per quanto riguarda la saga, perché sappiamo l'hype che si è creato, l'hype infinito che si è creato intorno a questo gioco, sappiamo chiaramente che il periodo almeno, non dico magari la data precisa, ma il periodo del venticinquesimo anniversario della saga di GTA, scusate, appunto potrebbe essere un ottimo momento per lanciarlo. Un'altra cosa che ci lascia pensare a un possibile annuncio di GTA 6 in questo periodo è il fatto, potrebbe sembrare scollegata la cosa, ma fidatevi che se andiamo un attimino a analizzarla non lo è, il fatto che attualmente, come sapete ne abbiamo parlato nel video di ieri, che mi invito ad andarvi a vedere, in corso in GTA Online è presente l'evento di Halloween, che fra le altre cose prevede anche lo spawn di diversi UFO in giro per la mappa, noi dobbiamo andare a fotografare, chiaramente a mandare le foto Omega, ne abbiamo già parlato nel video di ieri, ma il fatto che appunto siamo nel bel mezzo di un evento UFO, e queste due date che ho citato prima saranno sempre nel bel mezzo dell'evento UFO, potrebbero essere collegate appunto a GTA 6, per un motivo che adesso vi andrò a spiegare. Se vi ricordate, infatti circa un annetto fa, quando era uscita la trilogy Definitive Edition, aveva fatto molto scalpore un'immagine che era stata trovata all'interno di un bar di GTA San Andreas, che non era presente nell'originale, quindi è stata aggiunta nel corso dello sviluppo della trilogy, raffigurante un'immagine di una casa in Florida, se riesco ve la faccio anche vedere qui a schermo, una casa in Florida che sembrava appunto non venire da nessun altro gioco Rockstar Games. Quindi quell'immagine è stata un po' analizzata, si è capito che raffigurava una casa, diciamo la controparte fittizia di una casa, che poteva tranquillamente avere come location la Florida, in particolare Miami, quindi già avevamo mezzo capito che effettivamente il gioco sarebbe stato ambientato proprio a Vice City, ma la cosa interessante non è tanto la foto in sé, che comunque ok, è chiaramente una cosa importante, ma non è quello di cui voglio andare a parlare, perché questa foto qui non si trovava in un posto a caso, ma si trovava all'interno di un bar di GTA San Andreas, che aveva come tema gli UFO, si trova vicino all'area 51 di GTA San Andreas, ed era appunto in mezzo, questa immagine qui era un quadro in mezzo a tantissime altre immagini che raffiguravano degli avvistamenti UFO in GTA e in Red Dead, quindi questo potrebbe lasciare pensare appunto che la finestra di annuncio di GTA 6 potrebbe essere proprio nel corso dell'evento UFO di quest'anno. Non so ovviamente, quest'ultima parte mi lascia un pochettino più perplesso, però comunque ha un collegamento abbastanza sensato, ovviamente fatevi sapere cosa ne pensate, direi che le cose rilevanti le ho coperte abbastanza tutte, ovviamente vi aggiornerò nel caso ci siano cambiamenti per quanto riguarda questa questione, ma mi raccomando, asciutto un bel mi piace al video per supportarmi, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e attivate la campanellina per non perdere nessuna notifica, questa sera siamo in live su GTA per giocare all'evento di Halloween, fare altre cose, magari parlare anche un po' di quello che riguarda GTA 6, quindi mi raccomando siateci, e noi ci rivediamo alla prossima, ciao ciao!